Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale Oggi voglio spiegarvi una semplice procedura per impostare da terminale il browser predefinito del nostro sistema operativo In questo caso vi sto parlando da Debian, quindi vedremo come impostarlo su Debian e le sue derivate, Ubuntu e eccetera Apriamo una schermata di terminale e in questo caso su Debian andrò a richiedere i privilegi di amministratore con su Digiterò la mia password e andrò a digitare update-alternatives-config-x-www-browser Mentre che se state seguendo questa operazione su Ubuntu o altre derivate Anziché effettuare l'accesso come root con su Vi basterà scrivere prima di questo comando sudo update-alternatives-config-x-www-browser Diamo invio E vediamo subito che lui ci indica che abbiamo due scelte alternative per il nostro browser predefinito La prima è la scelta automatica, quindi comanderà l'impostazione di sistema In questo caso Chrome, Google Chrome Come seconda scelta modalità manuale troviamo sempre Google Chrome E come prima scelta, perché scelta 0, Google Chrome, modalità automatica Scelta 1, sempre Google Chrome, modalità manuale E scelta 2, Ice Whistle Che è il browser predefinito su BilloWebOS che vi ricordo è basata su Debian 8.2 Quindi in questo caso, come vedete, l'asterisco indica che Ice Whistle è impostato come browser predefinito Per cambiare il nostro browser predefinito Dobbiamo semplicemente digitare il numero associato a un altro browser Quindi in questo caso io voglio scegliere Google Chrome Andrò a digitare 1 sulla mia tastiera e premerò invio Ci dice che ha aggiornato la lista del browser predefinito E da ora in poi il nostro browser predefinito sarà Google Chrome Ovviamente se voi volete impostare per esempio Opera Vi basterà andare a digitare il numero di riferimento al vostro browser da impostare come predefinito Ovviamente questa procedura la consiglio a chi ogni volta che apre Google Chrome Riceve la scritta imposta browser come predefinito O comunque per impostare velocemente e in modo sicuro il browser come predefinito In un prossimo video vedremo anche come impostare su Ice Whistle alternativa a Thunderbird E comunque procedura valida anche per Thunderbird Il browser predefinito per aprire i link all'interno di un messaggio della posta elettronica Per questo video vi saluto Vi esorto a lasciare un commento per eventuali errori Vi lascerò il link della procedura in descrizione E a un prossimo video Ciao